L'Accademia Nazionale Pizzadoc del via i corsi per pizzaioli professionisti e aggiornamento professionale e i corsi per pizzaioli base in cattedra veri e propri esperti. Il primo a formare pizzaioli provenienti da tutta Italia è stato nei giorni scorsi presso il Madison Cava dei Tirreni, Vincenzo Capuano. Prima era un... cioè mia nonna e mio padre sono pizzaioli, quindi ho vissuto un po' tutti i cambiamenti. Prima era un lavoro di ripiego, cioè vai a fare il pizzaiolo, oggi invece è una scelta, è un'arte e quindi si nasce, si cresce dicendo voglio fare il pizzaiolo perché hanno degli esempi come il mio che vengono da Scampi, abbiamo girato il mondo, ho visto mezzo mondo grazie alla pizza. Quindi c'è questa emulazione positiva, questo esempio positivo. Ma dicevamo, tu dici non ci sono segreti, c'è l'esperienza sul campo, sbagliare, riprovare, tentare sempre, ma ci sono degli elementi che non possono mancare per essere un bravo pizzaiolo e produrre un'ottima pizza? Quello che voglio riportare qui all'Accademia Nazionale Pizza Doc sono i principi fondamentali, quindi il rispetto per questo lavoro, la metodicità e soprattutto la consapevolezza di quello che si fa. Quindi un pizzaiolo non deve essere distratto, non deve essere a ronzone, deve essere preciso, puntuale, quindi questo è fondamentale. Per invece gli ingredienti che si utilizzano, qualche suggerimento particolare? Come in questo caso abbiamo dei partner eccellenti, quindi fanno parte di questa Accademia, come dalla Caffarina Caputo che è il mulino di Napoli, al Pomodoro Torrente, quindi abbiamo dei partner eccellenti. È inutile anche nominarli perché sono già dei master. Tanti gli appuntamenti che saranno promossi nel corso di questo anno accademico, come sottolinea Antonio Giaccoli. Abbiamo dei corsi per tutto l'anno, il calendario, il prossimo 29 gennaio con Salvatore Ronillo, poi con Gabriele Bonci, diciamo un calendario ricco che potete seguire sui nostri canali social e sul sito web Accademia Nazionale Pizzadoc. Abbiamo in programma per marzo dei corsi per pizzaioli base. C'è molta richiesta oggi di formare i giovani a questo lavoro che oggi secondo me è il futuro per parecchi giovani. Un progetto che ha già dato grossi risultati, che prosegue. Qui si formano i pizzaioli del futuro. Sì, è nato questo progetto di creare un'accademia che forma i pizzaioli per il lavoro del futuro, perché oggi la professione del pizzaiolo sta dando grande soddisfazione ed è molto ricercata nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo deciso di creare questa accademia per formare i pizzaioli che possono essere pronti poi nel mercato del lavoro. Abbiamo corsisti da tutta Italia e anche dall'estero, quindi pizzaioli che vengono da Torino, Cuneo, Milano, Parigi, Barcellona. Quindi un bel progetto che sta dando grande soddisfazione.